Facebook, per chi non è potuto venire, Aria Test Drive, parliamo di ibrido con la Hyundai Ioniq, in questo caso la versione ibrida che si può provare insieme a una versione elettrica in anteprima italiana, quindi sono in corso perché comprare la live e pubblicheremo nei prossimi giorni quelle che sono le vostre impressioni. In anteprima intanto abbiamo qui due persone che stanno per salire sulla macchina, voglio fare due domande al volo per chiedere a voi che state per salire sulla Ioniq, giusto? Avete mai provato un ibrido? No. Cosa vi aspettate da questa tecnologia? Che sia un po' strana da guidare, diversa dalle macchine a benzina, magari che i freni siano un po' diversi. E tu cosa ti aspetti? Mi aspetto un più grande comfort a livello di utilizzazione e poi anche di poco in tranquillamento dell'auto più giustamente. La caratteristica della Ioniq, non so se sapete, è che ha un cambio a doppia frizione e quindi questo rende la guida molto simile a quella di un'auto normale, tradizionale. Quindi provatela, poi magari vediamo le vostre impressioni a caldo dopo. Buon giro! E quindi dicevamo, siamo qui nell'area test drive, sono in corso, non possiamo bloccare queste prove, quindi adesso c'è questa Ioniq che è appena arrivata in versione ibrida, ma ci sono adesso e ne arriva una Ioniq elettrica. Quindi voglio provare a vedere quali sono le impressioni a caldo di questa prova. Vediamo un attimo di chiedere alla persona che scenderà fra pochi istanti. Dicevamo appunto, siamo nell'area test drive di Motor One Days, si provano tante auto, quindi non ci sono soltanto auto sportive. Vogliamo farvi conoscere anche le nuove, diciamo così, tecnologie. E adesso vediamo se questo signore è disponibile a lasciare qualche commento. Due impressioni a caldo su cosa significa guidare elettrico, se la sente? E' una bellissima macchina, l'esperienza, la prima volta che la provo, ma bello. Che sensazione fa guidare un'auto elettrica rispetto a... Una cosa strana, non so parlare, non so cosa dire. Da passeggero? Da passeggero è un ottimo modello per essere una macchina, diciamo, coreana, quindi anche tecnologia. È gradevole da andare con un'altra mentalità, un'altra filosofia, insomma, quella che dovrebbe essere quella che si utilizza oggi. Grazie mille, buon Motor One Days. E quindi la facciamo vedere un attimo, Lorenzo se mi segui, ti faccio vedere anche dentro com'è fatta. Andate tranquilli, partite come se noi non ci fossimo. Quindi non vogliamo intralciare il traffico delle persone. Facciamo entrare le persone, non blocchiamo i test drive, per carità avete già aspettato tantissimo. Quindi andate tranquillamente, buon giro. E quindi se ne va anche questa Ioniq elettrica. E qui però, visto che parliamo di tecnologia, sono con Fabio, il nostro esperto di efficienza. Parlaci un attimo, adesso dobbiamo aspettare che questa può inquadrare anche la Ioniq in partenza per far sentire cosa non si sente, cioè nessun rumore, ovviamente come tutte le auto elettriche. Quindi facciamo parlare a lei. Ed è il bello dell'elettrico, quello che non si sente assolutamente nulla, rientra appunto fra le magie di questa tecnologia. Però Fabio, adesso dimmi qualcosa in più su quelle che sono innanzitutto le caratteristiche della Ioniq ibrida. Ricordiamo che adesso esce tra l'altro una... Perché la Ioniq, la particolarità è quella di avere tre versioni, tre variazioni sul tema dell'efficienza. Spostiamoci magari di qui per un discorso di sole. Una versione ibrida, appunto, tradizionale, tra virgolette. Una versione plug-in che sta arrivando adesso sul mercato italiano. E la versione elettrica. Cosa ci... Tu che le hai provate a fondo, mi sembra per ora l'ibrida, devi ancora provare l'elettrica. Quali sono le caratteristiche, tu che te la sei studiata? Sì, allora, questa Ioniq ibrida, che è la prima che è arrivata in commercio, ha la particolarità di avere un motore a benzina 1.6 abbinato a un cambio automatico a doppia frizione, che è una cosa piuttosto rara fra le auto ibride. Un'auto che spinge bene, ha 140 cavalli, ha le giuste dimensioni, è una vettura interessante sicuramente. I consumi ovviamente sono ridotti. Una cosa che mi aveva colpito durante la prova è che per il prezzo di acquisto è veramente molto accessoriata. La Style, da 29.000 euro, ha veramente tutto quello che si può chiedere, dai fari a LED al mantenimento corsia fino ai sedili rinfrescati, insomma. Oggi qui abbiamo anche l'elettrica, che è la seconda arrivata. Questa ha 120 cavalli, è completamente elettrica, ha una batteria da 28 kWh che le permette un'autonomia dichiarata di 280 km. Questa devo ancora provarla, però promette anche questa molto bene. È chiaro che questa è destinata a chi ha un facile accesso alle ricariche elettriche, sia a casa che alle colonnine. Quindi è una vettura molto molto particolare, a zero emissioni appunto, e costa un po' di più, chiaramente. Qui siamo più sui 38.000 euro, diciamo, sempre versione Style. Poi c'è l'ibrida plug-in, l'ultima arrivata delle tre, che penso stia arrivando proprio adesso in concessionaria, che è, diciamo, la versione intermedia fra queste due, ovvero un'ibrida, come la prima di cui vi ho parlato, quella da 141 cavalli, che però ha una batteria maggiorata, che le permette di percorrere addirittura 63 km, questo è il dichiarato, in sola modalità elettrica, che è un fatto molto molto insolito, anzi è un'autonomia molto alta per un'ibrida plug-in. Qui adesso vedevo i primi commenti, tra l'altro adesso le macchine, mi spiace, non ve le possiamo far vedere perché le stanno provando, non possiamo intralciare i test drive, il bello è anche farle provare per chi è qui, quindi non vorremmo mai bloccare appunto i flussi, però appunto Martino chiede, è scettico sul fatto che non si sente il motore, riferendosi evidentemente all'auto elettrica, siamo in una manifestazione dedicata alla passione, io quello che dico sempre è che comunque il comfort, la silenziosità di queste nuove tecnologie, che siano ibride elettriche, hanno altri vantaggi nella vita di tutti i giorni, al di là del tema ambientale comunque, è un discorso proprio di, come dire, comfort e silenzio, perché si sta molto più comodi a viaggiare nel silenzio quando tu usi la macchina nel traffico e quant'altro, e tu su questo poi dell'altro sei un fanatico, anche a livello di, soprattutto per la tecnologia ibrida, che regala più o meno sensazioni simili a bassa velocità, giusto? Sì, giustissimo, appunto, sia il comfort di bordo che la silenziosità esterna, immaginiamo una grande città, una metropoli in cui una parte, anche magari minima, un terzo, un quarto del circolante fosse elettrico, avremo una città sicuramente più silenziosa, una guida molto più rilassata e persone probabilmente anche meno stressate, questo è uno dei grandi vantaggi della guida elettrica, è una guida molto più rilassata, e molto più, diciamo, quasi distante dall'asfalto, come lo intendiamo oggi. Chiaro, la guida sportiva è tutt'altra cosa, ma questo è l'interessante dell'elettrico, oltre il fattore ambientale, ecologico ed ecosostenibile, questo che è tutto da valutare poi col tempo. E infatti sì, secondo noi, noi appassionati, oltre che giornalisti tester che fanno questo lavoro, crediamo che la tecnologia deve andare avanti, che è un po' lo stesso discorso della guida assistita, quelle tecnologie che ti aumentano il riconforto, ma soprattutto la sicurezza. Fabio, vieni pure più vicino. Io direi che qui purtroppo è difficile far parlare oltre della Hyundai, Hyundai, Ionic, semplicemente perché la macchina non ci sono, stanno girando, siamo a Motor One Days, nella zona test drive, ne abbiamo tre, lo ricordo a chi si è collegato adesso, la versione ibrida, la versione elettrica, scusate, ne abbiamo due, tre esemplari, ma due versioni, ibrida ed elettrica. La plug-in arriverà nei concessionari, mi sembra, in questi giorni. Io approfitterei adesso di te, Fabio, spostandoci dall'area test drive, per fare una, come le chiamiamo noi tecnicamente, una pascolata nel paddock, visto che comunque nella giornata di oggi di Motor One Days, che è la seconda giornata di oggi, qui c'è qualcuno che ha appena provato la Stelvio ed è contento, appunto fa un caldo incredibile tra l'altro, cioè siamo stati baciati dal sole, dal bel tempo, ma la temperatura è abbastanza imbarazzante, quindi ora è l'ora di pranzo e tutti sono ricoverati fra gran premio di Formula 1 e diciamo pausa pranzo, e questo è il nostro paddo, che lo puoi far vedere Lorenzo qui a destra, le nostre auto protagoniste degli Hot Lap, la nostra selezione, tranne le tre in questo momento Mercedes che stanno girando, ma poi, Fabio, qui abbiamo tanto, tanto ben di Dio portato dai collezionisti, fammi tu una cronaca, partiamo dal lato destro, vai, facciamo il lato destro che stiamo riprendendo in questo momento, vai Fabio. Sì, il lato destro vediamo, iniziamo subito con un MG, rossa fiammante, che ci riporta un po' agli anni 30, diciamo, pur essendo un modello più recente, poi inizia una sfilza di Ferrari, Ferrari degli ultimi anni, dalla 348, 355, adesso non vedo bene, abbiamo una California mescolata, poi abbiamo addirittura una Diablo Roadster, pezzo non diffusissimo, direi. Dietro potete intravedere altre Ferrari, altre Porsche, 911, poi abbiamo, uno di fronte all'altro, due Alfa Romeo Montreal, questo verde incredibile. Continuiamo con le Ferrari, dietro c'è addirittura una GTC 4 lusso, sembra. E poi ancora Lamborghini, Ferrari, Ferrari. Però ma chiedi il colore tra il rosso e il giallo. Il rosso e il giallo, sì, quest'anno abbiamo tantissime sfumature anche di rosso, l'abbiamo visto di tutti i tipi rossi, dall'arancione fino al rosso cupo. E ci stiamo avvicinando, guarda, adesso partiamo ancora su una testa rossa, fai vedere però, abbiamo due testa rossa, tre, giusto, pure dietro, fai vedere un attimo a chi ci segue adesso i tratti caratteristici, quindi il lato B fondamentale della testa rossa per quanto è largo, se ti abbassi lo fai vedere anche, è qualcosa di incredibilmente seducente, direi io, come aggettivo. E comunque vedere auto del genere, dopo tutti questi anni, da quando sono state concepite, fa ancora emozionare. Guardate come erano comunque all'epoca, negli anni Ottanta, piccoli i cerchi e quindi la spalla delle gomme, era tutta un'altra storia rispetto a quello che possiamo trovare oggi sulle macchine attuali. Qui andiamo invece a casa di Colin Chapman con alcune Lotus, un bel po' di Lotus direi, qua fra Elise, Esprit e quant'altro. Attenzione, una rarissima Dodge Viper, versione GTSR se non erro, ma scusami, è stata già intravista, immagino da voi, perché davanti a questa rara Viper c'è una, ancora più rara e ancora più preziosa, Bugatti EB110, notare signori da targa. Questa è una sciccheria, Fabio mi commenti questa targa e questa macchina. È una cosa da intenditore, la targa personalizzata è molto diffusa all'estero, meno in Italia. Anche è difficile ottenere in Italia una targa personalizzata. Bisogna avere qualche conoscenza, perché ancora non esiste nessuna normativa che permette di avere targa personalizzata. Cioè esiste la normativa, ma non esiste poi l'applicazione di questa normativa, per cui alcuni a volte si affidano alle agenzie per avere la sequenza giusta, i numeri giusti, non è facile. Due note sulle EB110, lo vogliamo ricordare? Quanto è speciale quest'auto? La EB110 è la rinascita di Bugatti. Bugatti è avvenuto appunto negli anni 90 qui in Italia, a Campogalliano. una rinascita col botto, diciamo, perché fece una macchina meravigliosa, quadriturbo, prestazioni eccezionali, una delle prime hypercar vere, con velocità nettamente superiore ai 300 km rari, come poche macchine all'epoca. E andiamo allora avanti, anche perché stando fermi fa un po' caldo, devo dire, onestamente. Qua c'è una fantastica Diablo SV, questo bluepuffo con la scritta SV, che non è assolutamente male. È bella anche la 4C, se ne vedono poche in Italia, di questo colore giallo, che mi sembra che sia un pastello metallizzato questo, che io l'avevo visto, l'hanno usata molto per le fotografie negli Stati Uniti, questo colore. Qua abbiamo un'altra EB110, così proprio per non farci mancare nulla. Sì, il colore di questa Porsche, possiamo, questo cipria scuro, come lo definisci Davide? Fabio? Non saprei definirlo neanch'io, sì, comunque è un qualcosa vicino al cipria, viola, non saprei. Comunque è molto bello, probabilmente è un colore personalizzato, dubito che esistesse nella gamma di serie. Esatto, e quindi ancora 4,30 Spider, Lotus e quant'altro, e poi qui, e vabbè, direi che, chapeau Fabio, e vabbè, e vabbè, e vabbè. Un F40, questa che versione è? Questa ha corso? Che dici? Sì, adesso io purtroppo non sono esperto di corse, ma è sicuramente una vettura che ha corso qualche campionato italiano, all'epoca auto veramente notevole, anche questa è una delle primissime hypercar al mondo, assieme alla Porsche 959, all'epoca fece furore, e ancora adesso è una macchina di altissimo valore, anzi, guadagna valore ogni giorno che passa. Eh sì, eh sì, adesso, Lorenzo, fai vedere una bella infilata del posteriore di questa F40, perché merita tutto, è una macchina che veramente, è il modellino che, almeno quelli della nostra generazione, avevano sempre in casa, e poi vabbè, 550 Maranello, che non è che, 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 insomma, si possa... Ah beh, giusto, giusto, dicevi scusa, GTA, ah beh, non è male, direi così, la GT3 RS, nuova nuova, non è malvagia, e poi io vorrei, diciamo, chiudere questa carrellata, che tu forse stai facendo vedere adesso se inquadri un po' il paddock, qua veramente c'è tantissimo, c'è ancora tantissimo, però abbiamo una perla rara, anzi, due perle rare, la prima la facciamo vedere qua, Fabio, e introducimela tu, per favore, perché io lei la conosco poco, e la classica, no, sei straniera, che non parla la tua lingua, ma che comunque inquadra, vai, Koenigsegg. Koenigsegg, qui siamo di fronte a un'altra hypercar, hypercar svedese in questo caso, opera del fondatore Christian von Koenigsegg, è sicuramente un'hypercar delle più estreme che esistono al mondo, questa è un'Agera, anzi, Agera R, di un colore incredibile, sicuramente anche questo scelto dal proprietario. È una sorta di, sì, un perlato, un colore perla, madre perla. Sì, madre perla, ma siamo sul beige, non so che colore può essere, un bianco sporco, non saprei neanch'io, comunque è incredibile. Ora non ricordo a memoria i cavalli, ma qui siamo veramente molto, molto alti, ecco. Esatto, e targata a Monte Carlo, ovviamente, perché insomma, qui è anche un po' difficile, qua siamo vicino, 800, sopra gli 800, credo. Sì, pare anche a me, pare anche a me che siamo oltre gli 800, perché i 1000 sono stati raggiunti solo con le versioni ibride, cioè con motori elettrici più benzina, qui abbiamo solo il motore benzina, mi pare di ricordare, insomma. Calcolo veloce, sì, top selection, top selection, mi dico, anzi, vediamo. Eccoci qua, allora qui tra l'altro abbiamo uno degli organizzatori di questo bel gruppetto, top selection, grazie insomma di averci portato questo ben di Dio. Grazie, è un piacere parlare. Beh, questo evento che organizziamo quest'oggi nasce innanzitutto per la passione per i motori, come è tutto, ma soprattutto prende luogo in questo autodromo grazie alla vicinanza con la ex fabbrica Bugatti a Campogalliano. Difatti ora, finito il pranzo che stiamo facendo qui nel circuito, ci sarà un trasferimento nella quale prenderà luogo questo memorial in onore del signor Artioli, che è stato per lungo tempo l'amministratore della grande azienda Bugatti e grazie alla sua presenza e alla massiva partecipazione di auto inerenti al marchio, quindi Bugatti e B110, ne contiamo per adesso otto, potremmo portare a termine questa fantastica giornata. E direi che, insomma, ci sono delle perle rare, già otto Bugatti e B110 tutte insieme, non è di tutti i colori poi peraltro. Abbiamo due che sono uniche, una Bugatti e B110 GT LM, cioè senza GT, una Bugatti e B110 LM e una SC, sono uniche al mondo, vengono dalla Germania, è stata un'impresa a portarle, ma è un evento unico perché non sono mai state insieme contemporaneamente e correndo due campionati diversi. Vale la pena, poi ricordo che pubblicheremo tante fotografie su OmniAuto.it nei prossimi giorni, sulle nostre pagine Facebook. Grazie, buon giro, buona visita, poi ci vediamo magari dopo. E niente, qui adesso chiudiamo questa pascolata nel paddock che, e beh, qui, Morsiera con il quarantesimo anniversario mi fa notare Fabio, color verde e acqua metallizzato. Io sul colore ho qualcosa da ridire onestamente. Sì, è un colore fatto apposta per il quarantesimo anniversario, numero limitato, pare proprio 40 ne fecero. Comunque il colore non saprei neanche io definirlo. è originale. Originale, dai, come sei diplomatico o democristiano. Anche questa è bella, questa Porsche Targa 4S, di questo, come un celeste slavato? Carta da zucchero. Carta da zucchero slavata, dai. E quindi io direi di chiudere, venite di qua, perché purtroppo non penso che vi possiamo far vedere la Ferrari TDF di Horacio Pagani, perché Horacio Pagani, come forse sapete, se avete visto la diretta da Motor One Days di due ore fa circa, è stato qui a Motor One Days, ospite, ci abbiamo anche fatto quattro chiacchiere ed è venuto con la sua personalissima Ferrari TDF, bagno di foglia, bagno di folla inevitabile, perché lui di fatto è un mito vivente oggi fra i creatori di auto, cioè Lenzo Ferrari degli anni 2000. E quindi adesso mi sposterei, per chiudere questa diretta, che è partita dal mondo ibrido ed elettrico di Hyundai, io lo ricordo, e stiamo andando appunto a casa Pagani, dove appunto davanti al box, dove ormai è custodita, l'hanno messa a riposo, perché c'era un bagno di folla questa mattina, la Pagani Zonda Revolution, la R, c'è una Waira BC. Anche questo pezzo rarissimo, dedicato appunto a un amico cliente di Orazio Pagani, Benny Caiola, da cui BC, vettura incredibile, un hypercar, mozzafiata, non c'è dubbio. Eh sì, vedete qua il carbonio a vista, che poi è un tratto distintivo delle Pagani, dalla zona, insomma, la Waira, che poi si dice, Waira, Waira, correttamente, esattamente, la BC è un altro pezzo raro, un altro che ci hanno regalato qui a Motor One, One Days, insieme alla Zonda R. E con questo direi che possiamo chiudere, appunto, la diretta, vi lascio sulle immagini, sulle linee, sulle forme sinuose, di questa Pagani, ci vediamo dopo, a più tardi, e un saluto da Motor One Days. Ciao a tutti.